ciao questo nuovo video che voglio parlare un attimo dell'ultimo dell'ultimo film dei guardiani della galassia che siamo arrivati al terzo che che di questi di questi guardiani della galassia e all'ultimo che sono riuscito a andarmelo a guardare al cinema anche se mare un po in ritardo in ritardo da dalla sua data di uscita che altre il 3 maggio che è anche mare durato anche quasi due o due ore e mezza di film però due ore 25 più o meno però di questo ultimo mai capitolo di da guardiana e guardiani della della galassia ma lei come si dice che come come mai sempre come protagonisti questo peter quill e la scuola con la sua squadra di specie come si dice improbabili supereroi perché magari si chi si riunisce ancora ma lei ha a difendere che si prepara la marea difendere l'universo che ma è come si dorme in questo ultimo film magari qui e guill e guill stava tipo ancora affrontando la perdita di quella di dicamo gamora e niente che che magari come ma lei come come film amarei e come si dice essendo l'ultimo è un po ma lei come film conclusivo e ti lascio no ma lei da una certa parte ma lei anche se marella le tre ma lei tra me ma lei essendo essendo 3 ma lei come tra me erano finite ma sicuramente ma lei gli hanno i personaggi sicuramente li hanno lasciati come come erano che spero ma lei con la marvel e magari in qualche ma lei altro in qualche altra maniera questi guardiani ma lei della questi guardiani della grazia ma lei non non spariscono mai totalmente però perché che con la marvel con questi supereroi ma lei come si dice ma lei sono capaci ma lei di fare di ma lei di ma lei in una certa maniera di farli ma lei i personaggi di farli ancora vedere magari in qualche altra maniera però che come è fatto ma lei e come essendo noi essendo un film di fantascienza così un po d'azione ma lei ci poteva amare anche sai però a parte il livello ma è della della trama che sicuramente potevano magari magari potevano magari fare di meglio proprio che ci sono sempre i soliti i soliti e 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 i i soliti e i soliti e i peli si e i soliti e i coli a questi e i malori dritti e i soliti e i malori di e niente che magari si conclude col terzo questa questa parte magari della dei guardiani ma i guadagni della della grazia che è un po anch'io ma magari curioso per vedere come come finiva che 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 a parte che io prima come come si dice che l'unico mare superiore che guardavo che seguivo della marvelle aspari spari del mento che ma adesso che hanno preso magari la marvel ha incominciato a fare ma è anche i film hanno preso a fare ma è anche i film e ma lei ma resto se tramite la marvel ma magari sto seguendo ma è anche un po ma è altre cose tipo anche questi qua guardiani della galassia che magari bar quello i film che sono usciti magari quelli di batman così però questi quadri guardiani della galassia ho visto che come mi stava tipo piacendo e lo stavo tipo seguendo come come cosa che siamo arrivati ma lei alla alla con cui amare a questa conclusione di questo terzo capitolo da sarà da marvel è niente che ma eccolo su questi morai su questo ultimo film di guardiani quello che potevo dire ma lei ho già detto che ma lei anche se in certe scene ho visto che mi piace certe scene mi sono secondo me ma ma mi sono anche piaciuto piaciute e niente che ma è quello che potevo mai dire su questo ultimo capitolo dei guardiani della galassia magari l'ho già detto e niente ma lei ci vediamo magari più avanti con i miei soliti magari video che faccio sui sui manga o sui fumetti quelli da sergio bonelli per adesso magari chiudo qua il video dedicato magari ai guardiani della galassia e ci vediamo magari sicuramente ma è più avanti per adesso vi saluto ciao